Allora, io sono venuto in microdent perché avevo problemi di paradontite e mi era stato detto che non c'era una soluzione, quindi che dovevo togliere tutti i denti, quindi anch'io ero un po' titubante, però dopo aver provato la terapia mi sono accorto che invece funziona perfettamente, almeno se non al cento per cento, al novanta per cento siamo riusciti a risolvere la situazione, quindi grazie a tutti per il risultato.